buongiorno amici watching time e benvenuti a questa nuova recensione oggi voglio parlare di un altro brand che sono piuttosto convinto non abbiate mai visto su youtube italia anche in questo caso si tratta di un brand americano statunitense di recente costituzione ed è tutti gli effetti un micro brand oggi vedremo il visitor linden un orologio molto particolare ma in realtà il più tranquillo dei vari design proposti da questa casa orologera quindi andiamo a vedere il visitor linden colore amarant come sempre prima di tutto due parole riguardo al brand visitor il brand visitor ha una storia abbastanza recente nel 2014 hanno lanciato una campagna kickstarter che ha avuto successo per quello che è rimasto il loro design più iconico e direi anche più coraggioso il dune shore da allora sono usciti con nuovi modelli prima il visitor park ranger che ha un design anche molto interessante ma è sempre sold out poi questo linden che diciamo è il loro orologio più piccolo e con un design più classico poi hanno rilanciato con il primo loro orologio diver il dune shore shallow prendendo spunto dal dune shore e diciamolo pompandolo un po per rendere un diver come vedete tutti questi orologi di visitor hanno un design molto forte che trae ispirazione da due degli interessi principali del creatore di questo brand che è un architetto designer i due elementi forti sono appunto il design che in alcuni casi come nel dune shore si accompagna agli elementi naturali e poi gli elementi della calligrafia ora finalmente parliamo dell'orologio allora eccoci qua con il nostro visitor linden colore amaranto prima di tutto diamo un'occhiata alle dimensioni della cassa stiamo parlando di un diametro della cassa di 39 mm una distanza da ansa da ansa di 48 mm uno spessore da 10,5 mm vetro zaffero sia da una parte che dall'altra e una resistenza all'acqua di 5 atmosfere la corona è solamente push non a vite la cassa ha una finitura per la maggior parte spazzolata ai lati ma con un bisello lucido tutto attorno alla lunghezza delle anse e una ghiera lucida che dà lucentezza a tutto l'orologio abbiamo poi una buona corona di dimensioni abbastanza abbondanti con un'ottima zigrenatura che riporta il simbolo del marchio se giriamo l'orologio vediamo il movimento miota 9039 quindi la versione no date del della serie 9 di miota il fondello è a vite e sono poi ricordate alcune informazioni riguardo al brand e all'orologio gli elementi che riguarda la calligrafia cominciano ad essere evidenti non appena diamo un'occhiata al quadrante come vedete il primo elemento che ci ricorda la calligrafia sono la punta delle sfere entrambe le sfere sia delle ore che dei minuti hanno questo aspetto che ricorda il pennino di una penna poi ricordano anche la punta di una penna i vari indici è interessante notare che gli indici più grandi siano quelli non alle ore 3 6 9 12 come spesso succede il dial ha poi questo aspetto a sniper quindi con queste linee che dividono il dial il quadrante in quattro diversi settori visitor ha poi deciso di mettere il marchio e la data ad ore 3 che secondo me è stata una scelta strana che non mi sarei aspettato in un orologio con tale ricercatezza dell'aspetto del design che però in questo orologio riesce comunque ad essere bilanciato una cosa che ci tengo a farvi notare è che il quadrante pur avendo gli indici applicati è al tempo stesso un quadrante sandwich perché come vedete i marker per i minuti sono ad un livello inferiore rispetto al dial stesso come vi dicevo questo aspetto della calligrafia è presente nelle sfere ma anche per quello che riguarda la forma delle anze e come le anze curvano scendendo dall'orologio molto particolare è anche la forma della fibbia da rediglione di questo cinturino che richiama il colore ovviamente del quadrante la fibbia questa forma che riprende un po la forma laterale della cassa non è marchiata sulla fronte ma è marchiata dietro come vedete riporta il nome visitor watch company adesso andiamo a vedere come il lume di questo orologio perché pur essendo un dress watch vi riserverà delle sorprese ecco il linden in prova notturna prima di tutto notiamo che si tratta di superluminova in colore sul blu astro come potete vedere è ben applicata sugli indici è molto presente a livello delle sfere sia delle ore che dei minuti ma ci tenevo a farvi notare che la scritta visitor del marchio anch'essa ha un po di superluminova e è anche presente la superluminova per quello che riguarda la finestra data ovviamente non è molto la scritta visitor sparisce bene in fretta ma è davvero particolare che su un pezzo così quindi su un dress watch abbiano deciso comunque di illuminare tutte queste cose allora vediamo come sta questo linden sul mio polso che vi ricordo essere circa 16 centimetri quindi un polso piccolo come vedete per me l'orologio per la mia media che immagino per molti voi tenderò ad avere orologi un po troppo grandi per me ma per me l'orologio calza bene ovviamente trattandosi un po tipo dress quindi l'orologio un po elegante siamo ai limiti massimi diciamo perché comunque è un orologio di una certa dimensione l'utilizzo del movimento miota serie 9 permette all'orologio di essere piuttosto piatto comunque quindi può essere indossato con una camicia direi lo spessore totale abbiamo visto è circa di un centimetro la distanza danza danza vi ricordo essere sui 48 mm e quindi tutto sommato per quanto ha delle ansie un po lunghe per un orologio che ha un diametro di 39 non stona e non non sta male le ansie poi curvano leggermente verso il basso come potete vedere muovendomi un po sotto le studio lights si creano alcuni riflessi non credo che sia presente un trattamento antiriflesso sul vetro zaffero ma comunque in molte delle occasioni di utilizzo non non verrete disturbato prima di andare alle conclusioni approfitto per farvi vedere il packaging con cui è arrivato questo orologio è arrivato in questa confezione per tre orologi che è marchiata e giusto per farvi vedere è anche interessante che è marchiato anche l'interno è di buona qualità c'è spazio per tre orologi credo che anche questo dimostri che comunque questo marchio non ha preso scorciatoie ha dato una sua caratterizzazione in tutto quello che ha prodotto e in tutto quello che vi ho fatto vedere andiamo alle conclusioni cosa ne penso di questo visitor linden e cosa penso il generale del marchio mi piace molto in realtà quando ho cominciato ad interessarmi del marchio più che altro mi ero innamorato del dunshaw il loro primo modello purtroppo quell'orologio sono convinto che sia grande per il mio posto di conseguenza visto anche la minore immediatezza diciamo nel comprare un orologio dagli stati uniti ho deciso di puntare su questo linden che invece ha delle misure che sono più facili per me ma parliamo di questo linden e diciamo prima di tutto il prezzo il prezzo di questo orologio è circa 500 euro al netto del cambio ovviamente su questo c'è da pagare l'importazione io non l'ho pagata non perché non ho denunciato le tasse ma perché ho comprato l'orologio negli stati uniti per quello che offre l'orologio secondo me è un ottimo prezzo perché come avete potuto vedere ogni scelta stilistica che può piacere o non piacere certamente ma ogni scelta stilistica di questo orologio è fatta proprio per questo orologio qui non c'è un elemento che sia da catalogo e questo io lo trovo che sia senza prezzo soprattutto per quanto riguarda i microbrand che spesso si limitano a copiare idee di altri brand più famosi e semplicemente mettere in vendita orologi al prezzo più basso possibile dando delle buone specifiche per quel prezzo le specifiche di questo orologio non sono male perché il movimento mi hotel la serie 9000 è un ottimo movimento con 28800 alternanza un quarantina di ore di riserva di carica ed è molto sottile ha il problema che tutti noi amanti dell'orologia sappiamo che ha il rotore che carica solo da una direzione quindi può fare l'effetto un po' elicottero diciamo soprattutto su un orologio tipo dress si può sentire ogni tanto il rotore che si muove però a parte questo è un'ottima scelta è un'ottima scelta per questa fascia di prezzo a me l'orologio piace come detto mi spiace di non avere il corso per potermi permettere di comprare un'altra delle loro offerte ma vi invito a seguire visitor watch company perché secondo me questo è un marco che sta davvero facendo un buon lavoro vi ringrazio per la vostra attenzione vi invito a sostenere questo canale mettendo un like a questo video e iscrivendovi allo stesso e inoltre di parlare ai vostri amici del nostro canale un grazie ancora ciao e alla prossima volta